Accelerare e non perdere assolutamente del tempo prezioso, è questo l'input del sindaco di Benevento Clemente Mastella sul PNRR. Questa mattina il primo cittadino ha incontrato al comune la sua giunta con i tecnici comunali, l'Asia, il rettore dell'università e i dirigenti di tutti i settori, riuniti intorno ad un tavolo per fare il punto sulla situazione dei progetti. Ha preteso che ogni settore rappresentasse quelli che sono i finanziamenti messi a terra sono circa 110-120 milioni che dovranno tutti ottimarsi entro il 2026, solo 57 milioni sono dei lavori pubblici. Tanti progetti messi in campo dal comune di Benevento per rivoluzionare la città e renderla ancora più attrattiva. Molte procedure sono iniziate come via Cosimo Nuzzolo, i 10 milioni di euro, sono partite altre procedure per quanto riguarda i lavori pubblici, l'urbanistica, stiamo vedendo la questione delle scuole perché anche lì dovranno partire entro il 2023 l'abbattimento delle scuole. Non si può più perdere tempo e bisogna proseguire spediti il messaggio del sindaco che ha affidato al suo vice Francesco De Pierro. Ha chiesto ai singoli settori ove possibile di velocizzare anche l'iter delle procedure, cioè di anticiparli anche prima del 2026, c'erano tutti i dirigenti, naturalmente si sono presi la responsabilità di questo serrato indirizzo che ha dato il sindaco perché ha detto che naturalmente su questo sarà poco clemente.